Ha scatenato il panico al rifiuto di un piatto caldo da mangiare. Succede a Schiavonea, frazione di Corigliano, dove un uomo di origine straniera è entrato in un noto locale dell'area costiera pretendendo di ricevere una pietanza da poter consumare gratuitamente. Al diniego della richiesta, l'uomo ha estratto un coltello puntandolo contro il personale e minacciando i presenti che, terrorizzati da quanto stava accadendo, si sono nascosti all'interno del locale. È stato a quel punto che l'aggressore si è accanito contro la struttura, sfociando in una violenza inaudita che ha provocato la distruzione di gran parte del mobilio, tra cui anche le vetrate, i tavoli e gli oggetti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano per i rilievi del caso. Da quanto emerso, l'uomo era noto ai proprietari del locale poiché aveva svolto all'interno di esso diversi lavori, successivamente interrotti. In quel periodo il titolare forniva regolarmente pasti caldi all'uomo, non richiedendone il pagamento. Il rifiuto di fornire l'ennesima pietanza era data dal fatto che la proprietà aveva subito da poco un furto all'interno della struttura e dalle immagini rilevate dalle videocamere di sorveglianza, l'uomo era stato identificato con altri in concorso. Attualmente il soggetto si è dato alla fuga e ne sono state perse le tracce.